Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo E con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belle e benvenuti e mi iscritti più di tutti Bentornati su GIOVIH di SPO Io sono GIOVISPO e questo è un altro pack opening Ormai, come ho bandetto nello scorso Pack opening, siamo alla fine, verso la fine di FUT14 Non di FIFA 14, di FUT14 E dunque i crediti che ho accumulato in tutto questo tempo Finalmente posso sprecarli nel aprire qualche pacchetto Perché giustamente uno apre pacchetti Diciamo è come un gratte e vinci Però qui si paga se compri i crediti Se i crediti li fai giocando non paghi niente insomma Vabbè, detto ciò Apriamo questo pacchetto da 50.000 crediti Contiene 12 giocatori tutti ora e tutti rari Ma sicuramente riuscirà una ciofeca di quelli mai visti Tanto so già che sarà così E infatti non parlo neanche E non parlo neanche, vaffanculo, non parlo neanche Solo Mule si salva, vabbò Ma questi direi proprio di tenermeli tutti quasi quasi E' già Ah c'è il nuovo transfer Fernando Ehm Niente Merda totale La merda totale Complimenti Complimenti Giovispo Apri questi cazzo di pacchetti Ehm Che dire Fai schifo Non li devi aprire Sti pacchetti Non li devi aprire Ehm La vita La vita Sto facendo questi pack opening Come ho detto All'inizio Solo perché siamo verso la fine di fut Se eravamo a gennaio febbraio Non l'avrei L'avrei aperti Si ma Ma raro Una volta al mese Cioè Non più di tanto Diciamo dai Vediamo ho aperto l'altro 50.000 crediti Questa volta non voglio schippare Non voglio schippare Henry 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 Però non vale quasi un cazzo Però ti Henry Henry Ho trovato un tot Un tot Un tot Un tot Un tot Un tot E' un transfer Due transfer Tramp TV Ma che cazzo ti vuoi TV Henry 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 Ah vabbè c'è lo giallo Lo mettiamo se non mi scattarà Beh dai Io direi Che con Henry Henry Ci farei un Big Slips Oppure me lo vendo direttamente Commentate qui sotto Se volete Il Pink Slips Il Pink Slips Non lo schippo più Non lo schippo più Cioè non serve un cazzo schippare Non lo schippo più Allora non lo schippo più Allora Affanculo Vediamo tutto al club Tabullo Mettiamo sui trasferimenti Dai Henry Henry Buono Buono Henry 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 Tots Chiaramente vorrei anche provarlo Visto che l'ho trovato Lo proviamo Chi sa mai Chi sa mai Vabbè C'è 80 Qualcosa di Tino Però Io direi che sta sul 100k Sul 100k Almeno ci siamo fatti il costo di 2 pacchetti Da 50.000 crediti Quindi Se era un altro giocatore Ancora più costoso Su di 100.000 crediti Vabbè Andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto Sto delirando Scusate se questo è un delirio Momentaneo Per questo Henry Henry Tots Ma ora si troverà sicuramente La merda della ciofica Più totale Perché purtroppo È la vita Non si può avere sempre culo E infatti Troviamo Turan Come non ho detto Ma che cazzo parlo a fare? Però troviamo Atsu Atsu C.O.C. Atsu proprio Proprio un Atsu Atsu E esce Rodriguez Che già ho Che già ho Mettiamo in vendita E dunque Ho aperto 3 pacchetti Trovando T.Henry Henry Tots Una botta di culo Enorme Nonostante tutta Stia registrando E dunque No ce l'ho già Che dire Spero che questo pack opening Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Il pollice all'insù Per aver trovato T.Henry Henry È d'obbligo Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Qui è Giovis Povi Saluta Vi ringrazio E ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video Ciao E porca paletta Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima